we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi video davvero molto interessante perché si parla in maniera approfondita di quello che è appena capitato in mappa e che forse non tutti hanno notato e parleremo ancora degli aggiornamenti della season 3 collaborazioni robe particolari insomma ce n'è per tutti i gusti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale xyuder best moment e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi perché ieri ho fatto un predict assurdo molti hanno detto fail molti hanno detto predict nel video news di ieri vi ho fatto vedere alcune skin che era veramente tanto tempo che non venivano rilasciate sbram di tutto punto ovviamente p games guardi i miei video ovviamente li guarda e allora detto c'è questo qua ha fatto il video rilasciamo la più vecchia skin che era stata inserita nei file di gioco e non era mai stata rilasciata torniamo indietro in season 9 questa è la data in cui venne scoperta air head quindi lui praticamente è uscito ieri un mix tra uno spaventamasseri spetta passeri un dinamitardo e una spazzatura nel senso carino molto carina mi piacciono queste skin un po trash però questa skin nasconde ovviamente una roba ovviamente no però una cosa davvero particolare una collaborazione che in realtà non esiste in game ma che avevamo già anticipato praticamente ieri su twitter nella pagina ufficiale delle high head candy e dopo vi faccio vedere che cavolo sono pubblicano victory royale e moz penso che non so perché sia tra parentesi play delicious che è il loro hashtag quindi quello che ci fa pensare è che se andiamo a vedere le caramelle questa è una foto delle caramelle air head a parte chiamarsi esattamente come la skin hanno la testa il palloncino rosso che le contraddistingue sono caramelle storiche ci sono tipo da 60 anni da noi io non li ho mai viste però le vendono penso negli stati uniti o in quei posti l'ha nel senso quindi boh una collaborazione che in realtà non esiste con forte ne hanno deciso di fargli uscire la loro skin tanta roba magari diventerà rara potrebbe anche non arrivare mai più visto che abbiamo dovuto aspettare praticamente quasi un anno per la sua uscita e andiamo avanti a parlare di un altro argomento e praticamente è la cosa più incredibile allora ovviamente come state leggendo tutti vi faccio una lieve lettura praticamente è istantanea capire questa cosa siamo nei sono stupido vi chiedo scusa sono stupido non so perché non so perché siamo nelle nei leakers polacchi mai vista una cosa del genere ma molto curiosa credo di aver capito in realtà che si tratta di un messaggio automatico del bot probabilmente nei server discord quelli attivi ancora per gli agenti ovviamente il vecchio shooter ci ha fatto un pensierino e ho tradotto con il o scrivere il polacco è impossibile sul traduttore sono più le volte che sono 20 minuti per tradurlo comunque dice preparati per il puoi metterla w la z e la y vicine che su come li pronunci preparati per il colpo finale sono iniziate le ultime sei ore i boccaporti per preparare il prossimo evento di gioco mi fa ridere a traduzione un po quella che alcuni file sono stati rivisti e sono stati trovati 724 punti tecnici non utilizzati tira fuori quello che hai ancora perché non c'è possibilità ora io ce la posso anche mettere tutta non so bene che cosa voglia dire ovviamente se c'è qualcuno che parla polacco e vuole fare una traduzione precisa precisa è ben gradita e vi pingo il commento ve lo metto pinnato qua sotto sembra comunque che questo messaggio del bot che potrebbe essere semplicemente stato rilasciato per sbaglio dice che sono terminate credo tutte le verifiche su quanto quello che sarà l'evento e potrebbe essere un messaggio invece che arriverà quando mancheranno sei ore all'evento questo mi fa venire in mente la traduzione insomma ragazzi parlano di boccaporti credo che sia il nome corretto da dare adesso ai dispositivi che ci sono intorno all'agenzia con un po di ritardo ma siamo riusciti a trovare come chiamarli li chiameremo boccaporti e sappiamo che avranno ovviamente un ruolo fondamentale nell'evento di questa termine di season 2 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda i rift beacon per chi ha visto il video di ieri un sunto velocissimo hanno praticamente aggiornato delle dei file dei codici sorgenti riguardanti il rift beacon che cos'è è il dispositivo che nella season 10 ci permetteva appunto di modificare porzioni di mappa con altre porzioni di mappa quindi cambiavano le città e ne hanno cambiate veramente tantissime questo è quello che avevamo visto nel video di ieri quindi la modifica proprio grafica a una porzione di rift beacon mentre oggi vi faccio vedere altre due stringhe di codice che sono state aggiornate nel tardo pomeriggio di ieri indicativamente rischi con messe rischi con bits 12 e rischi con bits 10 cosa vuol dire non ne ho assolutamente idea l'unica cosa che mi viene in mente è probabilmente arriva più di un rift beacon o semplicemente stanno utilizzando i file di gioco del rift beacon per inserire qualche altro oggetto a volte fanno così anche per ad esempio gli starter pack loro utilizzano comunque la base quindi lo starter pack viene messo nello shop lo puoi prendere pagandolo in cash però poi gli cambiano le immagini potrebbe essere semplicemente una cosa del genere non lo sappiamo ma io vi tengo sempre aggiornati su tutto quello che viene modificato e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è una roba incredibile allora ha incominciato a girare questa notte la notte scorsa quest'immagine nei forum nei nelle pagine dedicate a forti dove ci sono i leakers dove ci sono quelli che trovano le notizie ed è un'immagine che alcuni definiscono come l'arrivo dei sette nella mappa allora io non ho idea assolutamente di dove sia questa spiaggia però se notiamo ci sono sette barche che sono appunto arrivate insieme a un'altra barca lì che in piedi no sono sei messe orizzontale e una in verticale come sappiamo i sette vengono menzionati addirittura dallo scorso capitolo di fortnite che è in poche parole la mega storyline gigante di tutto fortnite o meglio addirittura sì dalla season 3 dalla season 3 4 forse non si parlava dei sette ma dalla season 4 si è cominciato a scoprire un pochettino di più chi siano queste persone e non si è ancora capito chi siano tutti questi sette sappiamo più o meno che ce n'è uno ogni season e quello di questa season dovrebbe essere mida ma la domanda è perché hanno messo queste sette canoe cosa sta a significare mida comunque ancora al suo posto il visitatore ancora non si è fatto sentire abbiamo visto comunque nel trailer della season di questa season che inciso sull'albero quando si sposta il cespuglio ci sono delle indicazioni per l'arrivo potenziale dei sette potrebbe essere questa l'immagine che conferma appunto il loro approdo e probabilmente potremmo vederli nella stagione 3 dopo l'evento non ne ho assolutamente idea ma se qualcuno trova in mappa questa spiaggia beh tanta roba ragazzi magari ditemelo in live su twitch visto che sono lì tutti i giorni lo sapete passate un secondo mi dite dove li trovate e li andiamo a vedere insieme ragazzi vediamo se c'è ancora un argomento perché il tempo oramai è scaduto sì c'è l'ultima cosa volevo farvi vedere un video ma ve lo faccio vedere domani non vi preoccupate niente di esagerato questa è una una testimonianza di chi ce capisce per quanto riguarda il settore grafico e che conferma in realtà che il chaos engine quindi il motore grafico che tutti stiamo bene o male aspettando e che molti hanno un pochettino lasciato perdere in quanto pensano di essere rimasti delusi viene un pochettino spiegato in questo posto dove dice ad esempio l'evento di travis scott è stato talmente bello dal comparto grafico che se non ci fosse stato il chaos engine supportato ovviamente da tutte le directory di gioco da tutte e da tutti i motori grafi tutto il motore grafico che utilizza epic games fortnite non sarebbe stato possibile noi sappiamo ragazzi e tutti ci aspettiamo che con il chaos engine arrivino delle modifiche per quanto riguarda ad esempio la distruzione delle parti ambientali speriamo incrociamo le dita che nella prossima season sia così ma per adesso il chaos c'è funziona ma secondo me potrebbe dare davvero molto molto di più insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso il su twitch ciao